dai benvenuti a nome di WeBank io sono Alan Vincenzo Gendusa e vi presento questo webinar un milione per mia figlia che facciamo con Pietro Di Lorenzo eccolo qua ciao Pietro ciao buongiorno a tutti allora un milione per mia figlia è il titolo del tuo nuovo libro quindi perché dovrebbero vedere questo webinar Pietro guarda è un libro in cui racconto la mia esperienza di neopadre in cui ho deciso di condividere quelle che sono le azioni concrete che sto ponendo in essere per il futuro finanziario per di mia figlia quindi sarà una chiacchierata molto operativa in cui vi mostrerò proprio il mio portafoglio reale dedicato a chi vuole fare un investimento nel medio lungo termine quindi non solo ai padri ma chiunque abbia un progetto finanziario che ama o auspica raggiungere nel corso dei prossimi anni semplicemente con un investimento periodico e con un quindi con la capacità semplicemente di risparmiare ogni mese un po' di soldini e di investire quindi sarà secondo me un una chiacchierata interessante fra l'altro aperta anche alle domande quindi potrebbe essere un buono spunto per prendersi cura delle proprie finanze sicuramente vi faccio vedere i recapiti se volete entrare in contatto con Banco BPM potete contattarmi al 347 28 03 056 oppure alanvincenzo.gendusachiocciolapromotori.bancobpm.it come sempre qua sotto trovate un codice promotore pf 52 118 se volete diventare clienti WeBank dovete inserirlo nell'adesione online in questo modo avrete un servizio di eccellenza totalmente gratuito ovvero l'assistenza gratuita del trading team WeBank bene potete prendere visione del webinar cliccando sul link che trovate in descrizione come sempre vi ricordo di registrarvi ai nostri numerosi webinar gratuiti che trovate su WeBank.it in alto a destra in eventi e corsi buona visione con Pietro Di Lorenzo e un milione per mia figlia